buongiorno buongiorno salve salve bello lui buongiorno 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 come va come ciao buongiorno come stiamo oggi come vi ficca quest'oggi quest'oggi puttana e si deficiente di merda si sente tanto il ventilatore bile io non lo sento perché non hai le orecchie può essere no forse perché comunque devi contare che tra ubs e ds è diverso quindi me lo dirà gabriel mi sono cagato onestamente adesso non posso fare niente pensate che io ho tirato giù la tapparella sono al buio il ventilatore e ho caldo non è possibile fisicamente questa cosa è illegale io ho scritto una lettera al papa che lui sa si sente bene va bene sono contento stamattina posso fare una live solitaria ho detto vabbè dai mi metto lì poi è arrivato in hot e ho dovuto cambiare il titolo invece mi è arrivato il ventilatore la scrivania si ve lo faccio anche vedere eccolo qui guardate che bello sopra la ps4 tutta impolverata si l'ho pagato 18 euro e c'è dentro le batterie dello svapo di moro e va benissimo questa qui non è la massima velocità ma la seconda velocità vabbè tu l'hai anche visto si che l'ho visto eh l'hai visto mi è arrivato anche il router nuovo sto stremmando dal frixbox dal frixbox che in teoria adesso con questo nuovo router bellissimo in realtà non cambia niente perché il cavo è quello quindi non ci dovrebbero essere problemi ma va usb o solo batteria e è a batteria ma ricaricabile con usb non so se mentre ricarica poi credo si possa fare c'è anche la pinza te lo puoi pinzare alle balle volendo nel caso tu le abbia se non le hai te lo pinzi sulle poppe se non le hai neanche quelle perché sei giovane cosa stai seguendomi a fare dove sono i genitori dove sono dove sono a scuola le cose allora la qualità del wifi gabriel è uguale a quella del cavo adesso praticamente qui in camera poi adesso fino in bagno tira e riesco a navigare in bagno che prima non funzionava in bagno in bagno non andava mai adesso va riesco a caricare le gif di 9g in bagno che è una cosa da non sottovalutare è una cosa incredibile il motivo per cui l'ho comprato in realtà però e poi niente abbiamo fatto eh sì voglio vederti smadonnare su bloodborne ma non non oggi non adesso forse stasera non adesso vedremo forse in bronze 9g il bagno è un must eh sì pensa e io non riuscivo mica prima perché mi andava in 4g e consumavo un sacco è vero che non c'è il top donator è vero quindi chiunque può esserlo adesso basta un euro e cinquanta per diventare top donator che poi mica vorrete lasciarmi senza top donator è il primo del mese subbatevi tutti resubbatevi tutti perché dobbiamo dirlo che come si chiamano quelli lì con twitch prime devono rinnovare a mano che palle a mano che palle perché sì e basta una donazione per arrivare al top ho solo 62 spettatori accetto questa cosa basta ormai non conto più un cazzo sono peggio di chi coita hanno 209 vabbè mi verrà venuto pochi lo stesso però giusti almeno giusti noi cosa siamo utc come prego come fascia oraria noi cosa siamo utc no utc è umts aspetta ma cosa ti serve dei server che mi fa in manutenzione no è no è 5 pm kst 8 di mattina utc e 1 luna di mattina di pt grazie cato la faccia da pirla utc più uno ci dicono grazie mille cazzo sono 8 mesi quindi ce l'abbiamo nel cu e quindi alle 9 del mattino siamo in piena grazie mille gabriel buon top dicevi scusami ti ho interrotto alle 10 dovrebbe iniziare e che cazzo è qui quindi cosa giochiamo una partita no in verità al 10 inizia per due ore e cazzo e che cazzo facciamo questa mattina allora va bene proviamo una poi quando ci butta fuori switchiamo su qualcosa dice che possiamo completare il match che sono già partiti e ho capito prima dell'inizio della ho capito io però io dovrei finire alle 11 la live che dobbiamo fa dai ficchiamoci sapevo che devo partire otto ore prima io ci sono dai sto entrando anch'io invitami tutto viva noi il mio braille no tu sei scottato gatto no io leggermente sono leggermente rosso un po' di prurito il braccio che non mi sto grattando e sto bene sto guarda a modino niente di le mani sta venendo fuori un po lo stress del io non soffro le bolle le bollicine piene di acqua e si ama ma barbie quelli quelli acqua quelli acqua la si le 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 punzono no no viene fuori i'm a baby girl beh se lo fai durante un esame magari è un po' strano però magari è un po' strano però è bello però dai dottor johns johns adesso con l'orario estivo attuale siamo utc più due infatti alle 10 inizio bene henry bene ma io col caldo mi viene sulle dita dei piedi infatti devo stare con i piedi nudi perché mi vengono le bolline per il sudore devo stare nudo devo stare d'estate non posso mettermi neanche i calzini quasi poi ieri porca vacca le vesciche che mi sono venute perché avevo i calzini da montanaro e poi le ho bagnati con le scarpe bagnate l'attrito io ho il fondo dei piedi era tutto rinzito però tu ti hai rimesso le scarpe dal baschettaro eh sì eh sì eh però non hanno aiutato diciamo non hanno aiutato non si sono asciugati cioè magari sono state comode per camminare tutto il tempo sono state stra comode per camminare tutto il tempo io infatti avevo i piedi doloranti però asciutti più o meno erano comunque converse quindi la sua è rimasta un po' bagnatina muffosa tu però figa c'avevi il malanno eh io c'avevo un po' il malanno però è stato bello mamma mia una bella attrazione ci siamo divertiti siamo divertiti molto mamma mia l'audio beh si è bloccato aspetta vediamo ok ok va buongiorno buongiorno a tutti buongiorno a tutti dai phil andiamo al mare dai non ho voglia io devo studiare non ho voglia ma ti sei divertito due giorni adesso studi non ho un bricoglione eh lo so come bimbi infatti lo farò va bene grazie barbettivi e buon argento eeeh aspettiamo perchè qui non si può scendere beh in verità si si può scendere adesso no per ora no ora si eh si riusciva ad andare tu vuoi andare no vabbè ci scendono tutti no andiamo però cosa io sarei andato tipo qua che guardi la mappa però si si qua io scenderei adesso ah nelle due casupole con la la stradina che parte dalla strada grande le vedi quel mini complesso davanti a me si 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 c'è gente non c'è nessuno non mi pare tanto mi mi carica all'ultimo ieri ho ucciso uno che era afke dentro una casa tutto bardato ah vedi bravissimo però ho fatto una partita di merda dietro la ero dormiente ieri dormiente anche io adesso sono comunque stanco eh sono comunque stanco poi dopo posso comunque andare verso sud e ci prendiamo anche le altre case là che ci sono parecchie dai prendiamoci tutto ma non il tuo braille no il tuo braille è tuo è braille ok tu vai lì io vado qui allora dai e apro la porta nonostante dietro ci sia il garage aperto e ci la pompa zaino sparano di già chiudo la porta allora qua c'è un un mp qua c'è un mp niente niente perfetto nulla vabbè intanto lo prendo direi vabbè prenditi tutto tu ma non il tuo braille ma hai rotto i coglioni la solita p19 pistola l'olografico stanno sparando fortissimo tantissimo chi è grafico la padella che mi salverà la vita l'ho raccolto? non l'ho raccolto quanti spari poi c'è l'extended mag ma no quanta roba stai trovando porca vacca abbastanza pezzo di bastardo la casupola qui l'hai vista? no allora vado io vai ma è vuota ma che sfiga divertito almeno che il flash hider c'era va bene e vado verso est arrivo verso gli spari? ma non erano di là gli spari? verso nord mi pare fossero verso est ostia che famo non lo so magari mi sbaglio però vabbè che la prima è vergine possiamo anche andarci ma si la prima prepotenti possiamo andarci e Eliezer in verità alle 10 inizia la manutenzione del server per due ore quindi non so che cazzo vuole fare cazzo e boh non so neanche io cosa voglio fare rust ce l'ho già il merino ragazzi no no io non l'ho preso aha non credo sia stato lootato qui eh no sembra tutto chiuso c'è una polish vest qui di livello 1 eh ce l'ho già medikit di livello 1 si ce l'ho di livello 1 no ti prendo il giro medikit di livello 1 perchè sono simpatico ma moderatamente sei molto simpatico ma moderatamente eh energy drink un crasco mi mettono sempre ad orario live le le manutenzie la padella anche qua c'è una padella anche qua c'è una la padella prendila e ce l'ho no non si deve cosa c'è lì eh not cosa c'è che una padella ma ce l'ho eh no è una scusa un casco più di uno in verità ah totto e qua c'è anche una KM ooooo la fortuna è mia adesso prendi quello che io prendo siamo nella safe meglio di così allora stare la KM il Merinum il 762 70 760 ml ml io ho tutto sull'ml più scusa mi avevi parlato di un nel metto qua sotto ma vedi che guardo anche qui metti che c'è ficcanza no non c'è ficcanza era dove era mi racconti le puttanate era qua guarda qua guarda che bello qua 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 me l'ho misi aspetta che c'è cosa per pistola suppressore lo voglio una soppressata però se o ti metti o non ti metti e vai vai allora ecco posso fare James Bond ma non ha soppressato eh si che ha soppressato un po' un po' con cazzo vogliamo andare la in quella che paura andiamo alla torre andiamo in guardiola dai a dirci c'è una colorata di verde però ma dove lì a destra dietro di noi è su destra è uguale ma a verde è vero a strisce verdi è vero strana era in abbondanza no police vest a livello 3 tiè vuoi parlare di livello 2 eh si di livello 2 allora scendi pen killer sopra non c'è un caro ma qui dietro non c'è niente c'è niente ti ho detto non c'è niente non c'è niente invece c'era il quick draw per il fucile da KM eh per me niente capito ok che vogliamo fare? ballare il can can dai queste le abbiamo lootate no? si si vuoi andare giù di lì? giù di lì dove? dritto qua verso sud va bene andiamo sud est sud est sud sud est è che tanto adesso parte da 30 secondi ora che si chiude poi dovremmo andare verso il centro eh buh si faccio io una prefissione o qua va bene o qua prefimimi si chiude o dove ho messo il punto oppure qua va bene io te lo dico secondo me si chiude dove siamo noi invece non penso proprio sotto c'è un energy drink se lo vuoi prendere eh tu non hai niente perchè io non ho nulla della cura eh ho 5 dende un first aid un painkiller allora lo prendo io non devi rompere i coglioni anche eh infatti te lo ti ho avvisato ti insultavo giusto per per viva insultare eh si quanto sculato devi essere perchè hai chiuso la porta poi non ho chiuso la porta e come? non ci sembra neanche entrato bravissimo basta guardare dalle finestre esistono queste cose chiaramente finestre da qualche decina di migliaia d'anni ti ricordo che in H1 non le usano in H1 non le usano ma esistono qua c'è un coso io non stroffolo streff io non stroffolo streff grafic un choke se ti serve subito il choke è la vicino all'olografico eccolo qui che il choke che cos'è? il choke il choke ti restringe i colpi del pompa si ma che cos'è? ah eh perchè è una scatola penso sia qualcosa per chiudere la canna penso una saponetta? no 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 probabilmente all'interno della scatola ci sarà qualcosa ah dici che e vabbè ma scusami che brutto mi fa vedere tutte le cose e gli oggetti da infilare nei vari pertugi fatti bene quello lì c'ha la scatola ma che cazzo vuol dire che c'ha la scatola? probabilmente sarà troppo piccolo strozzatore della canna infatti questo è per cioccolato eh vabbè ok ok quindi non lo so vogliamo continuare ad andare qua giù sei una villetta se vuoi infatti verso sud est no? sud ovest sud ovest 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 ok sì questa casa qui colorata in maniera orribile è che forse una un'auto è di quelle che non non si possono prendere non la vedo proprio sinceramente è dietro la casa ah allora dove vedo dopo ah forse è di quelle che non si possono prendere no è tutta distrutta e non lo so io se devi aprire la porta? per viva devo entrare cosa faccio? non apro le porte? ma sì ma c'è il giro picpac livello 2 me lo son preso qua c'è un altro painkiller e ti lascio anche una di grazie gentilissimo gentilissimo lei qui non c'è nulla lì fuori una granata eh tigliala su ora si tigliala la tiglio su poi vabbè lo so parlare lo so parlare oggi eh no che non so parlare siamo rimasti ancora in 50 andiamo dritti di lì verso le casacchine ma si è distretta non se ne è ancora arrivato il gas che due coglioni eh no non ancora ho sbagliato ho sbagliato siamo in la la guardiola il posto di blocco la granata e stiamo lì e poi faceva il casello casello esatto facciamo pagare 5 euro per parcheggiare ha qualcosa da dichiarare? cerume? cerume? qua è no non è aperto non è aperto ho visto solo una una finestra tanto grande e c'è un cucina pompa che prende colpi e basta qui c'è c'erano 10 colpi ben 10 lo sarei dire allora qui forse non è stato lootato c'è uno zaino volante uno zaino volante però neanche un mirino davvero che palle come sempre potremmo provare ad entrare in città però è un po' un rischio c'è un nel metodo di livello 2 qui vientalo a prendere oh si colpi per la km che mi servono dove? qui ti servivano? no allora che vuoi? è l'elmetto la madonna è un sasso bianco ah non l'ho visto ho girato subito a destra buono no tanto per l'umpo 90 colpi ho detto possiamo provare ad andare verso la città ma quale? questa qui? eh però potrebbe essere pericoloso si mi ricordo sei quella pianta che ce la faccia da pirla grazie pixe e vabbè il pericolo è il nostro secondo nome ok mi chiamo marco pericolo gattuso e tu nicolai pericolange 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 vania che è vania comunque vania vania lo sai tu merda mi chiamo non lo sai lo so io lo so invece oh streghetta metta che si è chiusa vabbè siamo vicini avevi ragione tu manigoldo bastardo avevo ragione io eh ma è vero che vabbè va a far culo david perchè dovete fare le battute del cazzo cosa vi ho fatto di male vuoi un ban perm no il negozietto qua non ha un cazzo allora qui se vuoi c'è quel favoloso pompa automatico però non te lo consiglio perchè non è così ficcante no no anche perchè non puoi metterci il choke dentro è vero però puoi sparare tu 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 si quello è vero però non puoi metterci il choke serve solo a quello in realtà non è che ok vado nella cassina qui dell'ursr vai oh il cecchino buono quello nuovo ah no ma non è granché eh lo so però sai vabbè è sempre una cosa che spara distante va bene scusa si tolgo il l'ump e mi tengo il il coso si direi si 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 eh peccato però non è così buono è una pistola praticamente è una pistola che spara molto distante non trovo dai voglio un mirino voglio però la cosa buona è che praticamente è già silenziata si va bene però gli eh si lo so però che vuoi farci meglio di niente insomma no 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 va benissimo no beh è meglio sicuramente dell'UMP eh eh infatti qua c'è un cazzo però e niente gatto vogliamo pensare di andare abbiamo ancora un minuto e siamo qui dietro io finirei di ruttare qua almeno però eh metti che trovo eh vorrei un mirino io un olografico ce l'hai vero si noi c'è un red dot è buono ah guarda qua c'è un un otto scope eh ostia da zero a troppo ma va bene perchè io non posso non posso metterlo no 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 lo so basta quindi allora ce la dobbiamo giocare molto da distante così molto da distante perchè c'ho comunque la km eh che non è in verità più o meno da distante perchè io faccio fino a un certo punto eh si che cazzo mi sono colorato di rosso sbagliato perchè ti sei colorato di rosso? ho raccolto una maglietta che però non mi serviva ah vedi addio quanto deve zoomare va bene e ci possiamo mettere un po' camperosi adesso ok boh hopla andiamo hopla ho trovato anch'io un medikit delle band un painkiller due painkiller buon ah aspetta che mi hanno sparato nel culo corri e niente dai da dietro da dietro la padella mi ha anche parato dei colpi continua i not continua i not ma dai ma che sfiga ma dove merda erano? è dietro non ho visto io stavo guardando la mappa porca vacca ti vendico gatto vedo di vendicarti così riusciamo anche a fare un'altra non dimenticarmi non ti non ti dimentico ma ti vendico che palle avevamo appena preso tutto tranquillo 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 scusa abbiamo perso scusa da dove? da dove sono i bucati? credo no credo che ti arrivassero sempre dalle case da dove eravamo noi e infatti visto che è arrivato da di lì però io non ho capito no mai mai e via la prima era verginissima la prima era verginissima riusciamo a fare neanche un'altra perché dobbiamo entrare subito eh esatto si carica non carica non sta caricando? loading dai ah in alto a sinistra c'è scritto si alla prima era per il riscaldamento l'abbiamo fatta veloce apposta globale proprio eccoci qua vai facciamo match e via vedi e ora questa hanno fatto surprise motherfucker ho stato ancora parlando di sentieri ma io vi ammazzo sentieri? eh si per una battuta di merda di prima basta dai basta dai in quattro minuti fate la partita ma non ci butta fuori non ci butta fuori non butta fuori per le partite iniziate quindi è vinta quindi questa è quella buona è vintage è vintage è vintage questa è quella mua ne abbiamo fatta una e ci hanno uccisi no vabbè ma non siamo partiti un attimo siamo partiti un po' prima oggi e non lo so cosa faccio dopo vediamo qualcosa mi invento eh si però che sfiga eh non si riesce mai a fare una partita decente ho fatto una live tutta unica ultimamente eh è così gatto che vuoi farci lo voglio dare in testa chi non mi va e borderlands a me piace aia ma abbiamo appena detto di no zac dai ma qualcuno ha aperto una porta dici una casa tua no no in cuffia io ho sentito aprire una porta eh non lo so io no te pazzo gatto forse te pazzo gatto forse va bene gatto ma se andassimo qua decidi tu puoi andare la andiamo la gli piace la spiaggia lui moriremo subito spero di no ma potrebbe essere io ti avviso gatto ah vedo già gente eh porco cane sopra di me ma si ma tranquilli noi andiamo più in la tanto dove sei gatto dietro di te ah ma quanto più in giù rispetto a me io sono fortissimo so scendere neanche io so scendere ma so andare avanti anche eh ma non ce n'è bisogno qua dobbiamo scendere no i tipi sono hanno aperto il paracadute a chilometri d'altezza basta un punto di domanda sai non ti agitare andiamo in posti così isolati perché sennò porca troia già ci tocca combattere fin da subito mi sembra abbastanza ovvio come cosa si tutto qua eh dai ho trovato il x4 che fastidio dai nel livello 2 e la pistola chiaramente perchè ho preso una smoke pensavo fosse altro smoke weed everyday io non ho una pistola io ho solo la pistola vabbè dai però c'ho una tannica di benzina bevila che vai più veloce corri fortissimo mamma mia ok ho trovato un pompa d'oro buona hai trovato qualcosa tu? il pompa però io ho un 4x vorrei piazzarlo su qualcosa che non sia il pompa mi sembra una buona idea oh ma case vuote il bello del gioco è combattere però non ha pugni magari eh che dici microuzzi no non prendere per dire eh no stai senza piuttosto guarda vai veramente a pugni però qua ci sono due medikit beh beh dopo te ne do uno ragazzi va bene ho accetto questa regalanza hai le regalanze il fatto che siamo di squadra bisogna giocare di squadra e dividersi le cose bravo io sono il big killer io sono il big killer non sono mica Manu che si prende tutto e non dice nulla porca vacca che fastidio il Manu sei tu? si sono io ok sto per venire ad ammazzarti come un cane no no la casa grande non io ho visto solo questa eh ok dopo che io ho fatto 4 case tu ne hai fatta una si ma l'ho vista bene bene mia poi 4 case hai fatto delle 4 case pie piccole che cazzo vuoi? no più che altro erano vuote è quello il problema eh ho capito io qua c'è nel primo piano un casco ce l'ho ok no ma le cose base base le ho una granata ecco qui mi manca un'arma da distante un choke se vuoi ecco quello si qua nel corridoio arrivo qua 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 ti tutti ti tutti a me io vorrei un'arma che non sia il microuzzi diciamo buongiorno giul si eh microuzzi vuoi il 4x per microuzzi ma guarda quasi quasi e niente ho una pistola io al massimo no dai non stiamo trovando un cazzo microuzzi e pistola mamma mia niente dai va bene così però ho l'elmetto livello 3 ah il mascherone da saldatore che non so perché dovrebbe proteggere eh vabbè dai da saldatore tutto saldato qui me lo sento c'è roba no tutto sold out no dobbiamo spostarci gatto si ma non di tanto non di tantissimo in realtà di una certa quantità andiamo andiamo qua lì queste qui davanti a noi va bene quella est si 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 mi sto già direzionando verso la direzione indicata dove sei ah sei laccato ok non ti vedevo c'è un aereo lì tu io correrò con la pistola e che vuoi fare e che vuoi farci c'è uno zaino di livello 2 io ce l'ho già e allora un cazzo che schifo la vita è abbastanza e l'elmo spetnaz spetnaz da artificiere non è da saldatore quindi strato grazie mille non ti so leggere però io ti ringrazio ti voglio bene ma non ti so leggere fuori sveste livello 1 non ce l'ho ce l'ho ce l'hai? si puoi provare ad ammazzare a testate con l'elmetto di livello 3 madonna gli è uscito subito poi c'è un campo visivo di un rettangolino ma va bene tanto giochi in terza si si infatti no no ma dai tanto anche in prima persona non penso ti limiti la visuale no dovrebbe dovrebbe tantissimo cioè non dovresti poter vedere però sarebbe troppo uno svantaggio per poi giocare contro chi gioca in terza persona tipo tutti perché chi cazzo gioca in prima persona una condomini con l'85x condomini e basta si full auto e lo utilizzo come se fosse un 1p non mettere il full auto nell'uzzi eh eh? non mettere il full auto nell'uzzi tardi eh un errore tanto l'ho cambiato l'ho cambiato eh no perché l'uzzi fa finito eh si lo volevo usare come in caso un un fucile a pompa eh da vicino e basta ci devi proprio prendere con tutti i colpi però un altro aid kit ok una frag ho sentito un rumore di un treno fuori casa mia ma non ci sono treni qui vicino ah vedi eh gatto dove sei? vieni qua qualche giro per i salotti cosa c'è cosa c'è? toh grazie li hai già visti tutti sti cosi? dove ho aperto si qua ci sono delle bende quante ne hai? io ne ho 5 anche uguale poi in caso si ah l'UMP9 vabbè meglio di niente ce l'ho già l'UMP e degli occhiali bellissimi gli occhiali non gli scherzoni? più o meno bellini gli occhiali non gli scherzoni ehm holographic ce l'ho già e niente gatto ci vale il 4 scope nell'UMP? va bene ci va però vabbè gliel'ho messo allora siamo in una zona di bombardamento e in più no merda merda corri fuori corri corri corriamo verso la zona non ce la facciamo se no rischiamo la bombarda però Tyron ma alzati gatto scusa ehm grazie mille a te Tyron non ho letto perché insomma magari è un po' una cosa che ti vuoi tenere per te però ti ringrazio e io sono qui sono qui come tutti no ho detto una storia scusami vuoi che dimmi continuiamo un attimo sulla strada così vediamo di trovare qualche veicolo di solito qua c'è una domanda io taglierei vabbè vediamo ho l'impressione che non ce la facciamo solo a piedi sai va bene ho questa impressione preghiamo la c'è un veicolo che si muove molto in fondo non vedo eh no non ho visto nulla è sparito tra gli alberi è un veicolo che se ne andava a fanculo guarda c'è una taccia si la vedo nooo cosa? eh ma si fa niente fa niente su tranquillo taglie 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 sulla taccia porco cazzo guido io va bene guarda tu ma ti pareva ma che sfica le faccio cazzate non è coppa mia non le puoi fare non le posso fare infatti e niente così proprio? eh non abbiamo molto tempo purtroppo eh più o meno fidati di me sono brevissimo non ti azzardare siamo quasi fuori non è vero siamo a metà strada della del bombardamento tranquillo ai not ah tranquillo ai not andrà tutto bene dai gatto siamo quasi salvi ai not ok ah vedi ma meglio di così orco cane va bene va bene ok ah va bene e c'è una casa lì scendiamo dai che non siamo una casa ma una baita di montagna cattachecche 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 ok nel metodo di livello 2 ho preso eh aspetta zitto allora ventilatore scusa pensavo ad arrivarsi una macchina ero pronto a tutto ma io comunque ho perso i punti vita ah e ci siamo un po' incastrati si ok va bene lo accetto lo accetto potrei prendere no un painkiller e basta fatevi morire esploso eh ti ricordo infatti poteva andarci peggio dai molto peggio avete visto sono il signore degli autoveicoli eh si allora come ne autoveicola lui adesso ammazzo tutti con l'OMP da distante sai che ci sarà gente che ci arriverà dal culo vero? puro è che non sento neanche l'audio di gioco colpa del ventilatore eh? eh sì ma fai schifo allora ma come mi inclino tutto per guardare non rompere le balle beh eh mi inclino eh eh niente che facciamo aspettiamo la nuova zona ci servirebbe un'arma da distanza in realtà ci servirebbe un'arma da distanza ma aspettiamo una nuova zona vuoi andare qui sotto in questa casa qui quella casa qui ah no beh si aspettiamo una nuova zona cioè dai tanto adesso dobbiamo adesso la vediamo quindi arriva tra un attimo poi ah si mi ricordo sei quello biondo che ce la faccio da tirla vieni campanotto salve gatto mi tiene sempre compagnia sia nei momenti di cingerli sia nel tempo libero grazie nei momenti di cingerli? ah perché è studio ok siamo molto distanti palle andiamo deve andare dall'altra parte del mondo? no più che altro dall'altra parte della città che è peggio verso la città non ci passiamo gatto eh ma voglio andare in questa casa qua ok però poi facciamo il giro larghissimo della città chiesa si 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 andiamo verso la chiesa al massimo è vero che si corre senza armi sei più veloce però che palle però si è senza armi basta mettere sulla pistola in realtà la padella e la partita prende tutto ah ce l'ho fatto già il choke? quando l'ho preso? te l'ho detto io dove era? si è vero nel corridoio mamma mia pensavo fosse due partite fa qua c'è un altro medikit prendilo tu si di sopra? vai da sotto sotto ah eccolo qua e ho raccolto le... cos'è stato? eh? non hai sentito? si si ho sentito è stato uno sparo è stato un brutto momento è stato abbastanza brutto momento si allora andiamo di qui e c'è un bagno andiamo di qui e c'è una camera da letto guarda con il vertical cazzolino lì per mirare meglio con l'OMP mamma mia col 4x beh col 4x potrebbe essere comodo eh quel coso e poi basta non c'è percato che gli tolgo un'unghia non c'è altro che fa malissimo fa un culo un'unghia e dobbiamo andare certo perché un minuto se vogliamo prendercela larga non ce la facciamo dai 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 arrivo 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 anche qui sarebbe comodo avere un veicolo eh si possiamo ritornare ranna 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 c'è in caso ma eh non era più ripartita in realtà no? ah si era rotta anche? magari non si era rotta però non 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 ha dato molti segni no probabilmente il fatto era troppo in pendenza la cosa si esatto quindi dovrei star lì a smarmittare fare un casino bestiale per non andare avanti quindi eh ok abbiamo un minuto eh ma io direi che possiamo anche passare per di lì direi che possiamo iniziare a girare e ora possiamo girare perché appannazzi non vedo niente non vedo nessuno eh siamo alquanto in mezzo alla strada per continuare a guardare però sto correndo velocissimo salto anche ok ok eh facciamo un una corsa in mezzo al capannone una sbirciatina giusto corsa vediamo se troviamo qualcosa prendiamo altrimenti andiamo dritti direi guardavo anche qui dentro la casa ma non c'è una sega cazzo redot un vector è meglio il vector o l'OMP? non ne ho idea killer è meglio l'OMP il vector penso sia più semplicemente ma più ratio di fuoco si ok dobbiamo correre è anche abbastanza gatto ma si fa si fa si fa si si fa il problema è che il nostro lato è quello più lontano dalla safe il che significa che il gas va più velocemente vedano la nostra parte ma non ci sono problemi si speriamo belle sbirciatine va bene ti sei fermato? no sembrava sembrava sono davanti a te scusa ma io sto correndo con la granata in mano e non corro più veloce di te ma che cazzo? secondo me è una cazzata quello che corre più veloce beh in realtà l'animazione mia è molto più si hai l'animazione più veloce ma cioè l'animazione è diversa ma no in realtà ti sto raggiungendo eh molta calma si si non so questo quanto possa giustificare esatto giustifichi il non avere armi sparano dalla nostra destra eh mi stanno sparando contro dalla nostra destra arriva la safe arriviamo la safe e gli spariamo contro andiamo dietro quell'alberello lì è in safe dovrebbe eeeh si madonna eh ma loro hanno il cecchino però vabbè ma tanto dovevano venire qua ma da dove? eh da di lì eccoli là che dolore dove gatto? sopra la collina li vedi? eeeh a sud 160 cazzo ho sparato un colpo è giusto per dire ho sparato un colpo va bene io adesso li ammazzo perché sono fortissimo stanno scendendo cazzo io non sono in grado di sparare a questa distanza è troppa non li vedo più aaaah che male che male ho capito però non riesco a mirarli no vabbè gatto tanto ci pensa il gas a ucciderli è dubito ora devono per forza spostarsi li vedi? no non più è morta un po' di gente eh e noi dobbiamo andare di nuovo dall'altra parte del mondo aspetta aspetta io non voglio correre perché se questi qui ci arrivano nel culo andiamo qua dove andiamo? sulla sull'acqua e prendiamo una barca va bene si se la troviamo una barca ma si la troviamo ti siano andati quelli lì? secondo me sono morti aspetta provo a correre non mi stanno sparando quindi direi che sono morto non mi ha servito di sentire una macchina sono pazzo oggi oggi sei pazzarello sei sparano a nostra destra c'è un aggiornamento da 700 mega quindi viene proprio bordo coso si ma lizzano una volta pacciato puoi ripartire a giocare subito non credo perché hanno detto che c'è due ore di manutenzione eh no e due ore di manutenzione che palle almeno non è da 5 giga e 5 vabbè ma quella lì era una paccia di quelle abbastanza prepotenti ok e ora una barca io intanto guardo queste casuppole mentre tu trovi la tua barca da sculato guarda guarda boom lo sto vedendo ah ecco però però no qua non c'è cazzo mi sembra di sentire delle macchine ti giuro eh sei pazzo? si sei tu pazzo? ho trovato un painkiller almeno che boh gatto vieni da me eh si si arrivo se trovo qualcosina di più anche perché l'unico painkiller che avevo l'ho appena buttato però ce ne ho ce ne ho ce ne ho un altro se vuoi eh vabbè cioè ce ne ho uno per te si 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 va bene ho anche una police vest però dobbiamo muoverci è meglio lo scarelle arrivo 30 secondi arrivo io siamo morti no i not credi in me io credo in te ma siamo morti non riusciamo ad arrivare alla alla safe ma non abbiamo la barca? no porco cane ti avevo detto io che la barca era una brutta idea non è una brutta idea gatto corri verso la safe corri verso la safe hai notte è meglio la barca che passare in mezzo a tutta la città è vero l'idea era buona il fatto è sfiga che non abbiamo trovato niente non sto vedendo neanche un veicolo porca puttana hai notte ce la facciamo no ho trovato delle frasche la nord oltre il fiume cosa c'è? sta veicolando gatto? le sto correndo quanto lontano sto correndo cacca pupu eh ma uccide anche me sta cosa ah no guarda che forse io ce la faccio anch'io ce la faccio ti hai perso tempo hai guardato cosa che non dovevi guardare hai not fottiti è vero però la barca la barca la barca fa attenzione forse ho visto una macchina dove? è davanti a me se è funzionante sei salvo ma non sembra potrebbe potrebbe mi prende il culo mi prende aia dai 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 è funzionante corri corri ah meet me dio vieni da me gatto e vai veicolo di merda non va un cazzo non va ok 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 sono safe perfetto gatto non è vero che sono safe devo correre ancora gatto ci sono ci sono è oh no sei stronzo eh un po' si ora dobbiamo di nuovo correre per 70 anni no la prendo la prendo no la vado a prendere io tranquillo la vai prendere tu c'è più vita? ho tutta la vita eh beh giusto buono allora io mi stavo sistemando questa arma tanto vado a prenderla aiaa pizzica 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 almeno ho trovato lo Scarella al posto dell'OMP drive dove sei andato? qua si sparano da dove? un po' dovunque in realtà però principalmente da est est e da sud est nella cittadina aspetta aspetta ci penso io vado su qui e li ammazzo tutti è che non mi pare una buona idea lo dico così eccolo no eccolo lì dove? sono lì che si corrono dietro l'avessi preso una volta aspetta non posso senza un mirino non aiuta molto lo Scarella più non è un arrivo boh io del sangue gliel'ho spruzzato tiee va bene va bene boh l'importante è dargli fastidio perché tanto adesso parte il gas gatto 30 secondi so qua stai buono Però anche il gas è qua E il fatto è quello Io non soffro lo stress Però tu sì E sì che soffro lo stress Dai Sbrigate Quindi così No, no, no Gira a sinistra Gira a sinistra Ok Ok, ok, ok Mamma mia Sono master Driver Posso lavorare a Movieland Sai che ci spareranno L'ass Qua, vero? Ce n'è uno camperato lì da voi Ma come? No, no Vabbè A sinistra sparano Fanculo a sinistra Eeeh Aiuto A destra E andiamo in una casa Perché qua siamo un po' troppo liberi E dove è una casa? Aspetta E vogliava Non so Ci sta sparando tutto intorno qua Quella? Andiamo là Eeeh Sì Sì, sì, sì Ho paura Eh, siamo un po' troppo visibili Così, però Frena 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 Ah, c'è un'altra macchina lì Va bene C'è gente? C'è gente? E che cazzo? Sì Dai Ma non è vero Ne ho ucciso uno E l'altro mi ha ucciso sparando alla porta Ma vabbè Porca puttana Eeeh Eeeh Va a far culo va Eeeh Ho scaricato tutto il caricatore addosso Più di così Eeeh Eeeh Vabbè Ma mi hanno ucciso troppo velocemente Sì, sì Ma vabbè Erano in due che puntavano alla porta Eeeh Ma uno l'ho ucciso subito Eeeh Perché uno gli ho sparato Eeeh Ho capito Eeeh Per quello Non dovevo entrare in realtà Non c'è di una granata Ma Ma Erna Grazie mille Oh Bravissimo 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 Eeeh Che faccio Non lo so Cosa potrei fare In questa balda mattinata Abbiamo ancora 40 minuti Abbiamo Eh non lo so Eeeh Vuoi fare qualcosa Tu ce l'hai Eeeh 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 Eh non lo so Ma lo so cosa vuoi fare Eeeh non lo so cosa posso fare Faccio rust dai Anche se lo voglio fare questa sera Faccio rust Stamane dai Dai fa rust Allora ti lascio Ciao Eeeh Buon Fine stream Grazie Eeeh Eeeh E niente facciamo rust Aspetta che devo Eeeh Aggiornare qui Anche l'affarino Delle robe Scusasseme ragazzi Scusasseme ma Siamo qui Adesso c'è un aggiornamento Abbastanza corposo Anche qua Dello sbirulino Di rust Porca troia Quanto Quanto Ma lo rifacciamo anche stasera Erbalda Intanto ci facciamo un salto in giro E vediamo Come va Quanto lento però Questo coso qui Vabbè Stato entro io Ah no Perché sta scaricando Player Stronz Battaglia nel grano Ecco perché va lento Eeeh Lo sapevo io E adesso infatti Ha preso tutta un'altra piega Eeeh Ok avvia l'aggiornamento Ragazzi non Propote Ragazzi Porca vacca Sono le regole Nico Sei anche sub Da più di tre mesi Dai Leggi le regole E su Premio tasto per continuare Enter Ok Non ci sono giocatori Su rust Ma siete strozi Come mai Come mai No Un server così bello Avete smesso Avete smesso perché c'è il quit Eeeh Niente si sta sbrigando a fare L'anticitte Il quit E lo sbiruliz Tanto facciamo così Perché ho il tasto per fare questo Eeeh Eeeh Che consiglio era L'ho usato Tutto perché sono mancato due giorni Sono mancato due giorni Basta Non va più niente Zero Oh Non va Vabbè Riproverò dopo A farlo partire A sto punto Ah no Ha fatto Bastava fare quello Beh Rust di merda Ah Gioca a rust Affanculo Ok Ok Vai Adesso funziona Le Ho premuto Ho premuto Mi riferivo alla sessione di prima Che bello Era da un po' che non entravo su rust Ah Sì Mi ricordo Sei quello Chi l'è C'è il Duzzo È arrivato il pargolo Minore di tre Nove mesi Grazie C'è il Duzzo Grazie Auguri Auguri Grazie mille Eeeh Lailat Se avete due patate Al posto di pc Non vi consiglio Né uno Né l'altro Bevo dell'acqua E voi come state Intanto narratemi Come state Siete Sessualmente attivi Oggi Non si sbriga però Oh Jongyu Sono molto contento Per te Ma come che domande Sono delle domande Allora Sono stato ucciso Da un lupo Le spawno Quindi adesso Sono da solo Nel server Mi avete abbandonato Tutti Fammi vedere Apro la mappa Oh Lì c'è un cinghiale E vabbè È diventato Un survival Normale Che pale Che devo logare Con steam E a steam E a steam Non va bene Che logo Perché devo usare K E l'affare Il doppio Sbirulino Dove cazzo è steam Il codice di sicurezza Dello steam guardia Ok TD X Ale Dove sono di bello Fammi vedere Nella mappetta Non ci sono Ci deve essere un errore Ah no Eccomi lì Ok Quello sono io Ah ma è rimasto Lo shop Scusami eh Ma c'è stato Il wipe O in una notte Avete costruito tutto Mi ammazzo Non è possibile No non credo Ci sia stato il wipe Ragazzi Non ancora almeno Eh no Senti qui Che area di survival Che c'è Bevo un po' di acqua Ah il wipe è stasera Fatta allora Stasera Mega merda Pronti Stasera Allora Ci prepariamo Stasera Si fa Mega merda Vi voglio Vi voglio tutti quanti Però eh Non è che poi Dopo uno dice No E non mi va Come dalle 7 Alle 20 Ma che palle E prima Della live Un telo Vabbè Non me ne frega niente In realtà A me Dalla roba Che posso usare Nell'immediato Il wipe è la distruzione Del server E' lo stesso giorno Per tutti i server E' vero E' vero E' così E' vero che c'è Un edificio qui Vuscard Grazie mille Benvenuto Ogni primo giovedì Del mese O secondo Poteri divini Per costruire Il colosseo E' se c'è il Luke Dopo Vedi che qui ci sono Le case fatte a modino Però non ho legna Da metterci Sarebbe utile Per farmi le robe Bello Bravi Tosco Grazie mille Tosco Ecco qui Mi piace sempre Lasciare Dei ricordi Dove vado Ah che bravi Che qui hanno fatto Pure il ponte Ma in realtà Io Eviterei anche Il wipe Semplicemente E' così E non è che Decido io Mangiate sta pannocchia Va là che ti vedo Un po' sciupata Signorina E piantiamo Dai che non facciamo I merdini No Aspetta Quindi stasera Si spacca? Ci siamo tutti Vi voglio eh Vi voglio tutti Questa sera Tutti su Rust E Frab Per farlo Girare bene L'unica cosa È che Porca trovi Mi gira di merda Pure a me Avere Un Un harddisk Performante E fa tantissimo Quello Che cazzo Succede Adesso Se eviti il wipe Si sbilancia troppo Il gioco Va bene Ci sta Però non ho trovato Un cazzo di utile È giusto che qui Non c'è il tab Per accogliere le robe Però qui Ah E questa me la mangio Direttamente da là E questa me la mangio Da qua E questa la pianto qui Lord Può entrare Ti devi fare la sub Spam o Rust Sui social Dopo lo faccio Che bello Qui Ho l'SSD E Rust è installato Sull'SSD Scusami un attimo Cioè lì avevo trovato Della roba No vabbè Non c'ho testa Di farvi perdere tempo Con Il farming E allora Lord Non puoi pretendere Ah Dio mio Ok Ho trovato Ho trovato Di legnetti E una barretta di cioccolato Che è sempre buona È ottimizzato malino Sì Oh È il coso di ducero Che dà Tanta vita Ale Andaggi nella molla David Sette mesi Ga Madonna Io mi faccio Un cappello Grazie mille Grazie mille Ripianto Ma scusami Cioè Sono da solo Nel server E allora Che mi frega a me Facciamo così Ci diamo Non so come darmi i poteri Più che altro Posso 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 E posso Tretrasportarmi Da solo E dove sono le C4 No vabbè Lo facciamo stasera Non voglio Fare le stronzate Prima No Il wipe va bene Ragazzi Non è Non è grave Il fatto che ci sia Va bene Va bene È una cosa utile Al server Avete tempo Fino ad oggi pomeriggio Per farvi la sub Quelle nuove Perché gli altri ce l'hanno già Per poter ricevere il form Per poter giocare Grazie Jules E grazie anche Vinis Che ha fatto appunto Quello che ha consigliato Jules Allora Mi metto il cappello Perché non funziona così Porca miseria E delle braghe E basta Delle scarpe Mi posso fare E mangio una barretta C'è un cavallo lì Mamma mia Come corrono male Ah Non vi sentite a casa In questo bel server Prime è stupendo Assolutamente Vi subbatte 20 euro l'anno E non avete la pubblicità Tac Sai che quasi quasi Il wipe stasera Me lo guardo Volando Chiedo a Luke Come si fa a mettersi Le cose Vado in giro Volando A vedere la gente Che si ammazza Però ci dovete essere tutti Per tutto il tempo Che è il prime fill Però devi rinnovare Eeeh Allora Cosa hanno fatto Il gattolicismo al contrario Siamo pazzi Eh no Guarda te Bastardi Gli infedeli Ho sentito un rumore Dietro di me Ho sentito un altro rumore Dietro di me Sento No Aspetta Cosa Cazzo è successo Io non Non lo so E io Non sono morto Anzi Sto recuperando Anche un po' di vita Perdendo la fame Ringraziando il dio Però Avrei Ucciso Dove dall'orso Nel menu Un spunto dell'abbonamento Per il gatto Non appare la scelta Del prime E non ti so dire Non è che hai fatto Già il prime Con qualcun altro La sub Orso merda E vabbè Allora è diventata Una live di chiacchiere Tranquillità e pace Tutta zen Che tristezza però Andiamo a funghi Dai Tac 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 Telefono continua a suonarmi A caso Che palle Anche se non Non ha Beviamo un po' d'acqua L'hai sentito Nico? Bravo Ah sì Mec Marmot Buon bronzo Minore di tre Tanto è mattina Frop 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 Buongiorno morte Una bella giornata di sole Un ambiente tropicale Ma non troppo Le solite cose No? Mi piacerebbe farmi Magari qualcosa di legno L'ingneo 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 Ho sbagliato Tools Del martello No Palle Mi servono le pietre Eh sì Mazzu Si sente tanto Ti dà fastidio? Frop Frop Io non soffro lo stress Io non soffro lo stress E ho anche un po' di culo Non mi caga Nice stream made Ma scusami Scusami Intanto non mi caga Hai scritto di andare su un altro server Perché dovrei Sono sul mio server Perché non ti cago Hai detto una puttanata Hai detto Vai tu su un altro stream Cazzo Va bene Vare Meglio il ventilatore Che vedermi sudato Assolutamente sì Poco da dire Mangiamo Vedere un po' di azione Ripeto Cambia stream No Non è Non è Ipersilenzioso Perché è a 2 su 4 Se lo mettessi ad 1 Sarebbe più silenzioso Però morirei Fa un caldo dell'ostia oggi Il rumore del tuo ventilatore È mimetizzato Dal mio dissipatore a ventola Intel Dun 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 Beh Ok Avevo un sacco Ne avevo Eh l'arma non è difficile da fare Mi saranno dei sassi Più che altro Che non ho visto Per adesso Infatti morte Non ho capito Eh sì Cato pleba No Intanto ci facciamo Una piccola Chiaccheratina Qui Chi è? Fabius Ciao gatto minore Di tre minore Di tre Conosci i buon costume Sì Fanno dei video Molto carini Soprattutto la serie Clondiche Conosco 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 tutto Non è vero Non è vero Bologna è un forno Incredibile Confermo Eh mangiati dei funghi Ostiantissimo Un po' troppo Allora Che bella L'acqua Cazzo Guarda lì Figata Qualcuno sa Pio meno L'ora precisa Del wipe Perché a questo punto Magari anticipiamo La live Non lo so No vabbè Mi tirerebbe un po' Il culo Già Ultimamente Non stiamo facendo Delle live Top Perché o i giochi Non vanno Oh è tutto rotto Fade Sei il migliore Ti seguo sempre Ma grazie mille Proprio sono il migliore Grazie Se no facciamo comunque Il wipe stasera Anche se hanno già fatto Il wipe Regalo delle armi Un po' a tutti E ci Spariamo Puttana L'avevo sentito Sì ma quanto Duro Eh no Porco cane Dalle sette Dalle sette alle ventidue Va bene Dai Eh sì No aspetta No Sono nato morto Sono nato morto Sono nato morto Però qui Però qui c'è una casa Però è entrato anche qualcun altro Aspetta Vediamo Motasor Come è messo Da Motasor Non si muove Non si muore Però ci si incastra Come la merda Salve Salve C'è nessuno Porca troia Dove sono finito Motasor 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 Bestia Bestia Che male Posso indugiare? Grazie Gentile Bella casa Comunque Gela picchio Un po' Un orso Un orso Aiuto Merda 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 Ma lei è bravissima a sparare Cosa mi punta? Non c'ho più vita di nuovo Sto guardando la live Eh Ah va bene Ho bisogno di cibo Ma gli è uscito Un pene lungo Cos'è? Cos'è? Beh? Ha fatto? Questo spreco di munizioni Questo spreco di munizioni Che ho detto Allora Mangiamo Qui Queste faccende E poi Ci cuciniamo l'orso No? Era una casa di design Sì Ale Che schifo Che schifo Che schifo E bevo anche Guarda Bravo Ciuccia Tutto Ciuccia Fisting all'orso Questa è casa mia Entra Tizio un incognito Quante Grazie mille Un altro orso No eh Era un cinghialotto Il maiale Che fa il botto Ah mi sentivi Sono in live Fantomas Fammi vedere Impostazioni Audio Chat Come faccio a selezionare Microfono Aspetta Questo qui è Lato Trasmissione Della voce Però non so se Se va Fa cagare un po' Il simbolo Boh Mi si sente? Non lo so Ehm Vabbè Vedremo Deve impostare Da Steam Il mic Per il gioco Ma in teoria Dovrebbe esserci Già Scusami Da impostazioni Ehm Interfaccia Voce Eh sì Questo qui è Mi si dove Test dei microfoni E va E va Boh Non lo so Lo devo fare per gioco Ma sì che lo so che devo premere V L'ho fatto E Usciva Ehm Boh Non lo so Non impiorta Vedi che se premo V C'è Però non mi Non mi dà segni di vita Non lo so Il primo però mi aveva sentito È vero È vero Mi teletrasporto da qualcun altro E non è che ce ne siano rimasti tanti in realtà Prima mi aveva sentito dalla live Dici Che palle Segni di vita li hanno tolti Se vi ricordo bene Eh sì C'era La puttana Che pa- Ma è per caso un deficiente? Eh? Sì A posto Mi ha sentito Ma Ma c'era bisogno Tacci tua Quasi Mamma mia Vuoi duellare? Mamma mia Teni in culo tutte Dai 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 Sega È una sega Questo qui Non sai con chi hai a che fare Porco cazzo Aiuto Ah Dio mi ha laggato Ti azzicco il culo Vieni qui che ti azzicco il culo Stronzo Orca miseria Non ti fermare sai Che ti azzanno le chiappe Succa Saccheggio Mi prendo la mela Me la mangio Me le mangio tutti Come scusi Va bene dai Per questa volta Il problema era solo di Phantomas Va bene È stato molto bello Ma Tante coccole Grazie Gattas per le sue live Lei è l'unico al mondo Ma grazie mille Ma l'ero persa Non so come Sto invecchiando Sto invecchiando Scusate Ma io mi fido Dei miei subscribers Siete persone brave Belle Giovani Tiro lì Le lance Ma questa qui di pietra È potentissima Me la tengo Sono il migliore Allora beviamo E poi dopo Riempiamo Il coso Ma È rimasto qui Che bello Riempi No Porca miseria Ah a posto Cosa c'è qui Sarà bravo e bello E giovane Ma un pallo in culo Te l'aveva lanciato È vero Va bene Fanciullini Io terminerei qui La live di questa mattina Mi dispiace Per Anche oggi Aver avuto problemi Però Questa sera Il wipe Questa sera Si wipe Ci spacchiamo A merda Come Come sempre Insomma Quindi siateci E siateci tutti Riportiamo in auge L'amore del server Va bene È qui È qui per voi Insomma Vediamo di Farlo vivere Ancora Più potente di prima Io vi lascio I termosifoni Come al solito Non so cosa fanno Perché Premiano Non va Maledetti loro E noi ci vediamo Questa sera Va bene Buonanotte a tutti Ragazzi